è chi dirige chi è lo sperimentatore commento lo sperimentatore chi dirige i fenomeni in parapsicologia lo sperimentatore in medianità è chiamato curatore si è giunti a ritenere che lo sperimentatore e il curatore oltre ai partecipanti all'esperienza influiscono sulla sua qualità non meno del sensitivo o del medium frederick meyers 1843 1901 distinse i buoni sperimentatori dai cattivi sperimentatori non per la loro abilità ma perché alcuni coagivano con le facoltà paranormali del soggetto ed altri le ostacolavano i primi erano certi della realtà dei fenomeni a cui assistevano ed altri erano inclini ad escluderli